Speriamo. Nella lezione di oggi parliamo di diffrazione in termini quantitativi. Abbiamo introdotto la diffrazione come prima evidenza sperimentale della natura ondulatoria della luce e poi nella lezione scorsa abbiamo parlato di interferenza. Ho seguito questo ordine negli argomenti perché la diffrazione la possiamo vedere come il limite al continuo della interferenza. Le figure di interferenza sono figure con variazioni di intensità legate alle differenze di cammino ottico, di sorgenti discrete e puntiformi nella descrizione che abbiamo fatto nell'ultima lezione. Invece nella diffrazione l'effetto è associato alla variazione continua del cammino ottico di sorgenti provenienti continue distribuite su una superficie estesa ma di dimensioni finita. L'esempio classico della diffrazione è caratterizzato o è dato da una configurazione in cui si ha una sorgente, uno schermo con una certa apertura, un'apertura che può avere una forma anche complessa se la disegniamo in due dimensioni e l'immagine formata da un'altra parte è un'immagine che non proietta l'ombra dello schermo ma un'immagine più complicata con delle frange di interferenza o di diffrazione per essere precisi perché il fenomeno è un fenomeno differente. Una configurazione alternativa o complementare è quella in cui si ha quindi schermo con apertura, schermo con apertura, una configurazione complementare invece è la diffrazione da un corpo opaco. In questa situazione che abbiamo dimostrato sperimentalmente con il capello potete avere un corpo opaco e una sorgente P da qualche parte, di nuovo l'immagine che si forma è un'immagine con delle zone di variazione di intensità che non corrispondono alla proiezione dell'ombra di questo capello. La descrizione della figura di diffrazione tramite la teoria, la soluzione dell'equazione di Maxwell per il campo elettromagnetico in queste configurazioni più condizioni al contorno sarebbe desiderabile ma è terribilmente complicata tranne per alcune configurazioni semplici. Dovreste nell'ottica fisica descrivere il campo elettromagnetico associato alla sorgente primaria che investe il corpo o lo schermo opaco oppure il corpo opaco e mette in oscillazione di dipolo le cariche all'interno di questo schermo e poi calcolare la sovrapposizione dei campi dovute a tutte queste cariche per ricavare l'immagine. Allora la strada, lo stratagemma che si segue invece per ricavare la diffrazione è basato sul principio di Huygens e il principio di Huygens fa esattamente il contrario. fa esattamente il contrario. Nel principio di Huygens quello che si descrive o si ottiene è che l'immagine che si forma nello schermo è la sovrapposizione di sorgenti secondarie distribuite con continuità nell'apertura. Sorgenti secondarie nell'apertura. e se ne fa la sovrapposizione. Queste sono sorgenti secondarie di onde sferiche, puntiformi. Ora è evidente, ad esempio se guardiamo questo primo esempio, che il principio di Huygens non ha una base fisica alla luce di quello che abbiamo imparato con la teoria del campo elettromagnetico di Maxwell e dell'interazione tra la radiazione elettromagnetica e i mezzi. In questa configurazione, se l'immaginiamo ad esempio nel vuoto, l'apertura è chiaramente l'unico punto in cui non ci sono sorgenti. C'è la sorgente primaria, ci sono i dipoli che oscillano nello schermo, ma nella regione senza cariche non ci possono essere sorgenti di onde sferiche. Quindi può sembrare sorprendente che il principio di Huygens funzioni. In realtà funziona perfettamente per, diciamo, è stato dimostrato che è valido, che questa descrizione è equivalente alla descrizione dell'ottica fisica nella teoria scalare della diffrazione sviluppata da Kirchhoff alla fine dell'Ottocento. Trovate la dimostrazione della teoria scalare di Kirchhoff nell'appendice del Focardi. Io la lascio come argomento facoltativo, non l'ho tratto in questa lezione, è abbastanza complicato. Nella mia vita l'ho dimostrata o l'ho studiata, diciamo, due volte. La prima volta in un corso di dottorato, quindi certamente un corso più avanzato di quello che stiamo facendo qui, e la seconda volta due anni fa quando sono stato incaricato di questo corso, e quindi ho ripassato degli argomenti per decidere o fare una selezione di quello che volevo raccontare, e anche per essere pronto a rispondere a eventuali domande. Siccome quest'anno non mi fate domande, allora quest'anno non l'ho neanche ripassata. Per cui c'è la dimostrazione o la giustificazione sulla teoria scalare di Kirchhoff. Io darò una giustificazione fisica più semplice fra poco, ma prima voglio ricavare la forma dell'integrale di diffrazione, cioè come si sovrappongono, come si può scrivere la sovrapposizione di queste onde. Prima di farlo però voglio discutere rapidamente quali sono le condizioni di diffrazione. Questa è una discussione analoga alla discussione sulle condizioni di interferenza, anzi direi identica. Cioè siccome nel fenomeno di diffrazione, lo abbiamo detto, si ha la interferenza tra sorgenti distribuiti con continuità nella apertura, devono essere soddisfatte delle stesse condizioni che sono soddisfatte per realizzare l'interferenza. Quindi abbiamo bisogno che la sorgente abbiano la stessa polarizzazione, stessa polarizzazione, abbiamo bisogno che abbiano la stessa frequenza centrale, abbiamo bisogno che esso sostissa, coerenza, spazio temporale delle sorgenti. Abbiamo speso tempo nella lezione di ieri per discutere come queste condizioni siano particolarmente restrittive per la interferenza e abbiano impedito l'osservazione diretta dell'interferenza fino all'Ottocento. Se avete due penne laser e sparate due penne laser su uno schermo non vedrete mai una figura di interferenza perché non esiste coerenza temporale tra le sorgenti. Due sorgenti indipendenti emettono luce su transizioni atomiche che sono completamente scorrelate nel tempo le une dalle altre. Abbiamo discusso come si realizzano sorgenti coerenti separando i fronti d'onda oppure separando le ampiezze. Queste condizioni invece nella diffrazione sono automaticamente soddisfatte perché di fatto il fenomeno è sempre, anche senza che lo sperimentatore mettesse a fuoco questo, associato alla presenza di una sorgente primaria che investe una apertura. Quindi tutte le sorgenti secondarie sono tra di loro in una relazione di fase definita con la sorgente primaria e quindi hanno chiaramente una condizione di coerenza. La polarizzazione è definita dal stato di polarizzazione della sorgente primaria e la frequenza è anche definita dalla sorgente primaria. Quindi l'osservazione della diffrazione, ancorché non immediato come fenomeno, è avvenuta senza dover presentare particolare cura alla natura delle sorgenti due secoli prima che si potesse poi mettere in evidenza il fenomeno di interferenza. Ok, passiamo adesso alla parte più quantitativa e iniziamo a scrivere l'integrale di diffrazione. Allora, per l'integrale di diffrazione scegliamo inizialmente una configurazione semplice, cioè prendiamo un'apertura che possiamo rappresentare come una sorgente infinitesima, quindi come una sorgente puntiforme. La nostra idea è questa. Questo prende il nome di integrale di diffrazione ed è l'integrale che adesso cercheremo di calcolare in alcune configurazioni semplici.